La fama di Giustiniano è dovuta più che all'impresa di riconquista dell'Occidente, che ebbe una durata temporanea, alla sua opera di legislatore. Egli infatti promosse la risistemazione e la codificazione di tutte le norme del diritto romano, dall'età repubblicana e imperiale, ai provvedimenti emanati da Giustiniano stesso dopo il 534. Il lavoro di studio, selezione e riscrittura delle leggi, affidato a un'apposita commissione di giuristi, durò cinque anni, dal 529 al 534. Il risultato finale fu un'imponente raccolta di leggi, nota con il nome di Corpus Iuris Civilis, raccolta del diritto civile, suddivisa in quattro sezioni. Il codice, che raccoglieva tutti gli editti imperiali dall'epoca dell'imperatore Adriano, il digesto, che riuniva tutte le sentenze emanate dai giuristi romani, le istituzioni, un vero e proprio manuale per lo studio del diritto nelle scuole, le novelle, le leggi emanate da Giustiniano dopo il 534. Quali sono le ragioni di tale operazione? I bizantini avevano ereditato dai romani un imponente insieme di norme e leggi che, essendosi accumulate nel tempo, si ripetevano o peggio si contraddicevano. Il carattere dispersivo e contraddittorio delle norme legislative arrivò a compromettere, alla fine del IV secolo d.C., l'esercizio della giustizia nei tribunali, tanto che le fonti parlano di una vera e propria crisi. La compilazione delle leggi nasceva dunque da un'esigenza essenzialmente pratica, armonizzare il corpus di norme ereditato dall'antichità romana con le leggi prodotte dai contemporanei per facilitare e rendere più spedito l'esercizio della giustizia. L'altra motivazione più profonda era quella di preservare la preziosa eredità giuridica dell'antichità romana, garantendo la continuità della civiltà latina in un contesto di forte contaminazione con culture estranee a tale mondo, come quelle dei barbari. La compilazione di Giustiniano permise quindi la sopravvivenza del diritto romano che in seguito avrebbe ispirato la cultura giuridica dell'intera civiltà europea.